Le foto dei nostri amati che non ci sono più sono un ricordo tangibile del loro passato o un portatore di energie oscure? Ti sei mai chiesto se sia giusto o sbagliato conservare in casa le foto dei tuoi cari già passati a miglior vita? Quanto peso ha per te la presenza delle foto dei tuoi familiari defunti nella tua casa? In questo video esploreremo insieme le diverse prospettive e opinioni su questo argomento complesso e delicato. Analizzeremo l'importanza emotiva e spirituale delle foto dei familiari defunti, esaminando come queste immagini possano influenzare il nostro benessere emotivo e la nostra connessione con il passato. Scopriremo anche le implicazioni culturali e spirituali legate all'abitudine di tenere tali foto in casa e cercheremo di comprendere meglio il significato personale e sociale associato a ciò. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale. Inoltre, accedi all'Accademia di Meditazione e Crescita Personale numero 1 in Italia che trovi in descrizione. E ora preparati per un argomento delicato e toccante. Cominciamo. Iniziamo col dire che questa è una questione su cui molte persone hanno opinioni diverse. Alcuni credono che sia sano e normale mantenere vicini i ricordi dei propri cari defunti, esponendo le loro foto in casa. Altri, invece, ritengono che ciò possa portare energie negative o impedire al defunto di riposare in pace. La visione dei primi si basa sull'idea che avere le immagini dei propri cari defunti intorno possa essere un modo per onorarli, ricordare i bei momenti trascorsi insieme e sentirli ancora presenti nella propria vita quotidiana. Questo approccio può portare un senso di conforto e connessione emotiva con loro, contribuendo al processo di lutto e guarigione. Dall'altro lato, invece, la prospettiva di chi teme che la presenza di tali foto possa attirare energie negative o disturbare il riposo dell'anima del defunto può essere influenzata da credenze culturali, spirituali o superstizioni che attribuiscono significati negativi o rischi alla conservazione delle immagini di chi è passato a miglior vita. Ciò che è confermato da molti è che la presenza in casa delle foto di chi non c'è più può influenzare il benessere emotivo e psicologico delle persone in vari modi. Tali immagini possono evocare una vasta gamma di emozioni, compresi sentimenti di affetto, nostalgia e perdita. Vedere le foto dei propri cari defunti può essere un modo per mantenere viva la loro memoria e sentirli ancora vicini, contribuendo così a un senso di continuità emotiva. Tuttavia, la presenza di queste foto può anche suscitare sentimenti di tristezza o dolore, soprattutto nei momenti in cui la mancanza dei propri cari è più acuta. Per alcune persone, esporre queste fotografie può essere parte integrante del processo di lutto e di elaborazione della perdita. Queste immagini fungono da tangibili ricordi delle persone care e offrono un modo per onorarne la memoria. Tuttavia, per altri, la presenza delle foto dei familiari defunti può essere fonte di disagio o dolore emotivo, poiché potrebbe rievocare ricordi dolorosi o accentuare la sensazione di vuoto lasciato dalla loro assenza. In generale, l'impatto emotivo delle foto di chi non c'è più dipende in gran parte dalla relazione personale che ciascun individuo ha avuto con il defunto, così come dal processo individuale di elaborazione del lutto. Alcune persone trovano conforto nel vedere tali fotografie, mentre altre preferiscono mantenere il suo ricordo in altro modo. In ogni caso, è importante rispettare le diverse reazioni emotive delle persone e offrire loro sostegno durante il processo di lutto e guarigione. Le implicazioni spirituali legate alla presenza di foto di morti in casa sono spesso connesse alle credenze riguardanti l'esistenza di un mondo spirituale o di un aldilà. In molte tradizioni spirituali si crede che le loro anime possano rimanere in contatto con i vivi e che esprimano la loro presenza attraverso segni o simboli. Conservare le loro foto potrebbe essere considerato un modo per facilitare questa comunicazione e per permettere a chi è mancato di rimanere vicino ai familiari. Inoltre, mantenere tali immagini in casa può essere interpretato come un atto di onore e rispetto verso ghili antenati. In molte culture si ritiene che mantenere viva la memoria dei propri predecessori attraverso le foto e altri oggetti possa portare benedizioni e protezione alla famiglia. Allo stesso tempo, esistono anche credenze che suggeriscono che la presenza di queste foto possa avere implicazioni più complesse. Alcune persone credono che esporre le foto dei propri cari defunti possa attrarre forze negative o, come detto prima, disturbare il riposo dell'anima del defunto, soprattutto se la morte è avvenuta in circostanze tragiche o violente. Le implicazioni culturali, invece, legate alla presenza delle foto di familiari defunti, riflettono le diverse tradizioni, credenze e pratiche associate alla morte e al lutto in varie culture e comunità. In molte culture esporre le foto delle persone mancate può essere un modo per onorare la loro memoria e per mantenere viva la connessione con le generazioni passate. Tuttavia, le implicazioni culturali possono variare notevolmente da una comunità all'altra. In alcune culture, ad esempio, le fotografie di chi è passato possono essere viste come portatrici di sfortuna. In queste comunità potrebbe essere considerato inappropriato o persino tabù conservarle. Inoltre, in alcune tradizioni religiose potrebbe essere consuetudine tenere le foto dei defunti in luoghi di culto o dedicare speciali rituali o preghiere alla memoria dei propri cari. In definitiva, le implicazioni culturali di questo tema sono complesse e possono variare notevolmente in base alla cultura, alla religione e alle credenze individuali di ciascuna persona. È importante rispettare e comprendere le diverse prospettive culturali riguardo a questo argomento. La gestione del lutto e ricordi dei nostri cari defunti può avere un impatto significativo sul nostro processo di guarigione e sulla nostra connessione con il passato. Quando affrontiamo la perdita di una persona cara, il modo in cui gestiamo il nostro dolore e i nostri ricordi può influenzare il nostro benessere emotivo e psicologico. Se riusciamo a elaborare il lutto in modo sano, onorando la memoria di chi continuiamo ad amare e trovando modi positivi per ricordarlo, possiamo sperimentare un senso di pace interiore e di guarigione emotiva. D'altra parte, se non affrontiamo il nostro dolore in modo adeguato, potremmo rimanere intrappolati nel lutto in un modo che ci impedisce di muoverci avanti e di vivere pienamente la nostra vita. La nostra connessione con il passato è anche influenzata proprio dai ricordi dei nostri familiari passati a miglior vita. Mantenere viva la loro memoria attraverso foto, oggetti o tradizioni familiari può aiutarci a mantenere un legame con le nostre radici e a preservare la nostra identità e la nostra storia familiare. Questi ricordi possono essere una fonte di conforto e sostegno durante i momenti difficili e possono anche arricchire la nostra comprensione di chi siamo e da dove veniamo. Tuttavia, è importante trovare un equilibrio. Mentre è naturale e salutare, ricordare e onorare coloro che abbiamo perso, è anche importante non lasciare che il nostro dolore consumi la nostra essenza o ci impedisca di vivere pienamente nel presente. Trovare modi sani per commemorare i nostri cari, come partecipare a rituali di lutto o creare un santuario memoriale in casa, può aiutarci a integrare la nostra perdita nella nostra vita e a trovare un senso di pace e guarigione. Infine, vorremmo sentire anche la tua opinione su questo argomento. Cosa ne pensi? Credi che sia sbagliato tenere le foto dei familiari defunti in casa o pensi che sia una pratica normale e salutare. Prenditi del tempo per riflettere e condividere le tue opinioni nei commenti qui sotto. Saremo felici di leggere e rispondere a tutte le tue riflessioni. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine e per aver partecipato alla discussione su un argomento così importante. Se ti è piaciuto, lasciaci il tuo prezioso mi piace e iscriviti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per più contenuti come questo. Inoltre condividilo con chiunque pensi possa beneficiarne e accedi all'Accademia di Meditazione e Crescita Personale che ti consigliamo in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.